La spesa per gli alimenti e bevande è costata agli italiani quasi 2 miliardi di euro in più rispetto allo scorso anno, a fronte però di una riduzione delle quantità acquistate. E' quanto emerge in sintesi dall'ultima rilevazione dell'osservatorio Ismea-Nielsen sugli acquisti alimentari domestici relativo al primo trimestre di quest'anno. L'incremento medio dello scontrino e dell'8,6% indicato da Ismea riflette anche l'adozione di strategie volte al risparmio, soprattutto da parte dei nuclei a basso reddito senza particolari differenze tra nord, centro e sud della penisola. Secondo l'analisi sono le famiglie con gli adolescenti a fare i maggiori sacrifici. Per loro l'aumento dello scontrino rimane sotto al 2%, ma il carrello si svuota di quasi il 13% delle quantità. Di contro, i nuclei familiari molto giovani e gli anziani senza figli a carico riducono solo di pochissimo i volumi acquistati, con esborsi maggiori. Analizzando le diverse categorie, la spesa risulta in aumento per tutti i comparti con incrementi a doppia cifra per uova, più 20%, latte derivati, più 18%, derivati dai cereali, più 13% e carni, con un più 9%. Nel reparto ortofrutta, la spesa cresce di oltre il 3%, con variazioni dei prezzi correlati anche a fattori meteo. Gli acquisti di oli vegetali crescono del 5%. Per le bevande, l'incremento di spese dell'8,5%, al quale contribuiscono soprattutto quelle analcoliche, come anche per i prodotti ittici trainato dal segmento del fresco, che, associato all'incremento dei prezzi, fa crescere la spesa del 6,7%. Calano quindi sul gelato e conserve ittiche.